Musica Chi sono i Santi? Il primo novembre, come lo sai bene, la Chiesa festeggia la solennità di tutti i Santi e come dirlo, è come il giorno del compleanno della Chiesa o se vogliamo dire forse la festa di indipendenza, è come la festa nazionale per eccellenza perché i Santi sono tutti colori, lo sai bene, che sono morti in grazia di Dio, che ci precedono già nel Regno dei Cieli e sono nostri fratelli e perciò in qualche modo è un giorno di indipendenza, un giorno di liberazione per tutti noi perché ricordiamo che grazie alla redenzione che Gesù ha operato nel suo mistero pasquale, salvandoci con la sua passione, morte e risurrezione, ci ha aperto le porte dei Cieli e ci ha reso capaci di entrare in Cielo, di recuperare quella nostra dignità perduta di figli di Dio. È un giorno molto bello nel quale possiamo ricordare a tanti, tanti nostri fratelli che veramente sono stati eroici. Ma è lo stesso Gesù che dà la definizione della santità. Durante quel bellissimo sermone, il sermone della montagna, il Signore spiega chi sono i Beati, chi sono coloro che si salveranno ed entreranno in Cielo. Lo leggiamo insieme. È il Vangelo di Matteo, il capitolo 5. Sono alcune righe che penso tutti noi dobbiamo di tanto in tanto riprendere nella nostra lettura, considerarli e meditarli perché sono i criteri con i quali il Signore ci chiama ad entrare in Cielo. Beati i poveri in Espirito perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Beati i miti perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ralegratevi ed assultate perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Il Signore utilizza queste categorie. Povertà, mitezza, purezza, giustizia, misericordia, pace e persecuzione. Sono parole forti che ci devono portare a fare esame di coscienza perché tu e io vogliamo anche essere santi, vogliamo anche entrare in cielo. È un giorno molto bello perché il Signore non soltanto ci chiama in cielo ma ci ricorda che appunto già ci sono tanti i nostri fratelli che ci hanno preceduto e che stanno lì intercedendo per ognuno di noi. Allora chiediamo la loro intercessione, chiediamo che ci aiutino a combattere nella nostra battaglia quotidiana e domandarci come possiamo vivere queste beatitudini nel giorno a giorno nella nostra vita quotidiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.